Tanto sono un bel paziente, alle sedie mi devo alzare, ma c'è un sacco da abitare Per voltare o assemblare, per dirigere e giocare, tanto mutuo devo fare Con un'uscita che è disastro, mille pezzi un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del vittore Siamo modellisti bianatici, le dita a vista Pure in corso ho pagato, a una gara sono andato, e nessuno mi ha cagato Un peccato serie 7, 4 amici, poi vedete, le serate sono perfette La purosa non fa caso, guarda ma ne sto cennando, ho comprato tra rocaccia, questa volta si mi caccia Siamo modellisti galattici, living the obvious life Galattici amici, ma soprattutto Galattiche amiche Benvenuti dal Warpstone di Cinisello, dove in compagnia di Gianluca abbiamo un annuncio Molto, molto importante da fare Infatti, domenica 13 ottobre ci sarà il primo torneo ufficiale di Warcry Sanzionato GV e con premi ufficiali GV Ragazzi, con premi ufficiali GV, infatti, avrete per la prima volta in Italia la possibilità di accaparrarvi queste esclusive Medaglie che solo i migliori sono degni di portare in battaglia Hai qualche informazione da dare per questo torneo? Appunto, il torneo sarà domenica 13 ottobre, inizierà alle 11 e mezza del mattino, dove raccoglieremo le iscrizioni e giocheremo il primo combattimento tra i generali che si sono iscritti Dopodiché avremo un abbondante pausa pranzo in negozio, quindi ci sarà la possibilità di pranzare in negozio sanzionato Ok Dopodiché, dalle 2 alle 7 si giocano gli altri due incontri e si decreterà qual è il campione tra i generali I Warcry, perfetto Dov'è che dobbiamo recarci per venire a partecipare a questo torneo? Il Warpzone è in via Montenevoso 27 a Cenisallo Balsamo per l'appunto E per chi viene dall'Interland e quindi con la macchina, c'è la possibilità di avere un ampio parcheggio Appunto per parcheggiare la macchina E per chi invece viene da Milano può prendere la linea 31 che parte da Bicocca e verrà lasciato a 5 minuti a piedi dal negozio Perfetto, quindi è anche molto facile da raggiungere o anche basta chiedere al primo autostoppista galattico e vi darà indicazioni Inoltre, per maggiori informazioni c'è l'info pack sulla pagina Facebook, sull'evento appunto dedicato a Warcry del 13 ottobre e vi aspettiamo Perfetto ragazzi, quindi mi raccomando dipingete, assemblate la vostra banda perché solo il miglior generale potrà avere questi abitissimi premi Oltre a tutti gli altri premi che sono qui dentro che non vi facciamo vedere Ma che dovrete venirvi a conquistare sul campo di battaglia Quindi ragazzi, assemblate tutto, per qualsiasi informazione chiamate Gianluca in negozio e vi aspettiamo domenica 13 Ciao ragazzi! Grazie a tutti.